Buongiorno ragazzi, nel video precedente siamo arrivati ad un risultato. Intanto, per chi non sta seguendo tutta la playlist, non so di cosa sto parlando, allora stiamo studiando la terza equazione di Maxwell nel caso generalizzato, quindi un flusso di campo magnetico che può variare nel tempo. Quelli che vedete in blu sono dei binari metallici e abbiamo posto sui binari metallici una sbarretta con una certa resistenza di una certa lunghezza e di una certa massa, queste sono le caratteristiche fisiche della nostra sbarretta, e l'abbiamo impresso una velocità iniziale verso destra. Allora, prima di tutto, visto che si ha la generazione di una forza elettromotrice e quindi di una corrente indotta, quando il flusso del campo magnetico cambia nel tempo, è ovvio che se la sbarretta fosse ferma, il flusso del campo magnetico, il campo magnetico ovviamente è caratterizzato da queste linee di campo magnetiche, quindi il campo è tra l'altro uniforme ovunque, allora il flusso, se la sbarretta fosse ferma, sarebbe semplicemente il prodotto tra il valore dell'area e il modulo del campo, perché tra l'altro ho preso un campo che è parallelo alla normale, ok, quindi il flusso sarebbe davvero, lasciando stare le integrali, il prodotto tra l'area, che ho sottolineato, che ho disegnato, per il campo magnetico. Ci sarebbe ovviamente anche il coseno dell'angolo tra la normale all'area e il campo magnetico, ma in questo caso la normale, che sarebbe questa, è parallela al campo magnetico, quindi l'angolo è 0, il coseno di 0 fa 1, ok? Quindi in questo caso il flusso non è nient'altro che l'area per il campo magnetico. In questo caso la derivata del flusso nel tempo sarebbe 0 e non avrà una forza elettromotrice. Ma appena io instauro nella sbarretta, semplicemente dandogli un colpetto, una velocità, cosa succede? A catena succedono delle cose che adesso andremo a vedere. Nel senso che cambiando la velocità, l'idea è che io vado a cambiare, cioè essendo presente una velocità, io vado a cambiare l'area. Il fatto che cambi l'area mi va a cambiare, quindi l'area diventa funzione del tempo, il fatto che vado a cambiare l'area mi va a cambiare il flusso del campo magnetico, e quindi il flusso diventa una funzione del tempo, e quindi vado a generare, visto che il flusso cambia nel tempo, la nostra forza elettromotrice. Noi, fino adesso, eravamo arrivati qua. Eravamo arrivati al fatto che la forza elettromotrice ha questa formula qua, e l'abbiamo dimostrato nel video precedente. Comunque, per ora questa cosa è come se dovessimo saperla a memoria. Da qui partiamo. Allora, andiamo avanti con la catena, perché una forza elettromotrice, cosa significa? che il nostro sistema complesso, cioè binario, campo magnetico, sbarretta, diventa equivalente ad una cosa molto più facile, che guarderemo tra un secondo, cioè diventa equivalente ad un circuito che ha una resistenza, che è data dalla resistenza della sbarretta, e da una pila che ha come differenza di potenziale la forza elettromotrice. La forza elettromotrice, infatti, crea una pila virtuale, ok? E' come se nel circuito ci fosse una pila. Ma come gira la corrente in questo caso? Non è mica banale. Allora, cos'è il significato di questo meno? Ma semplicemente che, beh, intanto noi sappiamo che andiamo a generare una corrente indotta, perché è come se ci fosse in un circuito equivalente una pila, ok? E per, alla fine, la legge di Ohm, noi sappiamo che una forza elettromotrice, che è nient'altro che un delta V di una pila virtuale, non è nient'altro che R per I, R per indotto. E quindi vuol dire che noi andiamo a generare una corrente indotta. Cioè, in questo circuito, ok? Delimitato dai binari e dalla, in questo quadrato, in questo rettangolino, comincia a passare una corrente per il fatto che la sbarretta si muove. E quanto vale questa corrente indotta? Beh, se la FEM è uguale a R per indotto, la corrente indotta è uguale a la FEM, semplicemente diviso la resistenza della sbarretta. Quindi andiamo a generare una corrente, anche la FEM cambia nel tempo, perché la velocità cambia nel tempo, immaginiamo che la velocità cambi nel tempo, quindi anche qui abbiamo una corrente che cambia nel tempo, vedete, abbiamo un sacco di roba che cambia nel tempo, e questa corrente, mentre la FEM vale meno BL su V, ok? La corrente non fa nient'altro, adesso dobbiamo fare un ragionamento sui segni, comunque viene meno BLV diviso R. Allora, attenzione, cosa significa questo meno? Questo meno sulla corrente significa che la corrente si muove in quale modo? Visto che tra l'altro il campo minutico va in questa direzione, la direzione della corrente che dovrebbe generare questo campo, diciamo, la versione concorde della corrente a questo campo, allora, pollice in su, ecco, una corrente positiva girerebbe in modo anti-orario. Questa sarebbe la nostra corrente positiva. Visto che qui c'è un meno, significa che questa corrente gira dall'altra parte, ok? Quindi abbiamo una corrente indotta che gira in verso orario. Ok, quindi noi sappiamo costruire adesso il nostro circuito equivalente, perché abbiamo una forza elettromotrice, quindi una pila virtuale, una corrente indotta che gira in verso orario, e quindi questa versione complessa diventa questa. Facilissima, in cui abbiamo una forza elettromotrice che mi va a generare una corrente indotta, ok? Quindi abbiamo una pila con una, una pila virtuale con una FEM, tra l'altro la corrente va sempre dal meno al più, quindi è giusto il fatto che, vedete, qui la corrente passa così, e gira in verso orario, ok? E queste tre grandezze sono legate dal fatto che la forza elettromotrice è il prodotto tra R, che la, diciamo, la sbarretta sia ridotta in una resistenza, per la corrente indotta. Questo è facilissimo, ok? Bene. Adesso cosa succede? Eh, adesso succede che questa sbarretta qui, adesso su questa sbarretta qui, passa questa corrente indotta, ok? Perché ovviamente la corrente passa ovunque, quindi passa così, e ecco questo potrebbe essere un'ulteriore, un'ulteriore nascita di fenomeni. Questo perché adesso noi abbiamo una, adesso noi facciamo uno zoom sulla sbarretta, abbiamo un filo che è immerso in campo magnetico e che è percorso da corrente. Quindi, cosa nasce? la presenza di una corrente va a generare una forza, perché vi ricordo che un filo immerso in campo magnetico percorso da corrente sente una forza pari a IL per B. Vedete che la fisica si unisce tutta, ok? Quindi questa è la forza di Faraday e adesso con la regola della mano destra dobbiamo tra l'altro capire se questa forza spinge in alto, in basso, a destra, a sinistra. Allora, attenzione che L va come la corrente, quindi in questo caso noi abbiamo una corrente che va così, un campo magnetico che va così, ok? Quindi dovremmo fare la regola della mano destra, quindi mettere il pollice come I, mettere l'indice come B e quindi si vede, provate a farlo, che il medio, la forza, si muove verso sinistra. Questa cosa era logica perché, sempre per il principio di azione e reazione, vediamo che poiché la natura si muove in modo tale da diminuire una variazione in una certa direzione, visto che la sbarretta si muove verso destra, nasce una forza verso sinistra che cerca di rompere lì le scatole. Bene, quindi nasce una forza che spinge verso sinistra che cerca di frenare la nostra sbarretta. Quindi l'idea è che questa sbarretta comincia con una certa velocità iniziale e poi pian piano frena. Quanto vale questa forza? allora questa forza che vettorialmente sarebbe I L per B allora L e B sono perpendicolari tra di loro perché B è perpendicolare diciamo al piano e quindi diciamo in modulo sarebbe la corrente per L per B. Ci sarebbe dentro il seno di 90 perché L e B sono perpendicolari quindi questo è il risultato. Ovviamente per avere una visione vettoriale almeno sulle X si va a dire che nasce quindi una forza lungo le X che è meno I L per B perché comunque questa forza sta spingendo a sinistra e noi per ricordarci che spinge a sinistra ce la ricordiamo così. Quindi come vedete nasce una forza che spinge se la sbarretta va verso destra verso sinistra e che vale diciamo lungo la X quindi togliamo il vettore nasce una forza che vale meno I L per B ma I dalla riga precedente vale in modulo perché questo è il modulo B LV su R e quindi inserendo diciamo questa grandezza qui attenzione il modulo perché I è in modulo allora viene meno B quadro L quadro diviso R per la velocità così in questo modo abbiamo sia la forza e sia la corrente espresse in termini della velocità e tra l'altro anche la forza elettromotrice scritta in termini della velocità vedete tutto in funzione della velocità quindi noi la velocità nel tempo non ce l'abbiamo ma se ce l'avessimo riusciremo ad ottenere la forza elettromotrice la corrente e la forza beh possiamo ottenere la velocità di questa sbarretta nel tempo beh sappiamo che frena ma andiamo avanti perché c'è un'ultima quantità molto importante l'accelerazione l'accelerazione come recita newton visto che qui è presente solo una forza è uguale semplicemente a questa forza lungo la x fratto la massa la massa della sbarretta perché noi abbiamo un corpo di massa m che sente una forza che spinge verso sinistra e quindi l'accelerazione anche lei è un vettore verso sinistra ok e quindi a cosa sarà uguale questa accelerazione alla forza fratto la massa quindi l'accelerazione vale meno b quadro l quadro mr perché cosa sempre la nostra velocità quindi tutto è funzione della velocità ripeto se noi avessimo la velocità riusciremo ad ottenere tutte queste quantità come facciamo ad ottenere la velocità beh adesso poi noi non sappiamo ancora farlo però noi sappiamo che l'accelerazione non è nient'altro che la derivata della velocità nel tempo ed è per questo che noi non sappiamo farlo perché non sappiamo fare le derivate però a questo punto io unirei ciò che sappiamo cioè l'accelerazione da una parte è la derivata della velocità nel tempo dall'altra parte l'accelerazione è questa cosa qui ok quindi è meno b quadro l quadro m r per la velocità ecco e qui noi ci fermiamo perché questa è un'equazione differenziale che impareremo a fare tra due o tre video quindi attenzione che adesso vado un attimo avanti anche se noi non sappiamo queste cose nel senso che vado a riscrivere questa equazione differenziale in un modo più semplice cioè spostando tutta a sinistra e lasciando da solo v quindi viene moltiplico ovunque per m r ok così vedete una cosa forse chiara ottengo una cosa del genere ho moltiplicato di qua e di là per questo coefficiente pongo uguale a 0 noi riusciremo a sapere qual è la soluzione di questa cosa vi dirò che questo forse si vede anche sarà un tempo caratteristico anche perché questo è un tempo e questo è un tempo quindi semplificandosi dal punto di vista dimensionale devo ottenere una velocità perché poi questa quantità è sommata ad un'altra velocità ok e quindi vi dico subito che nascerà un profilo di velocità anche se questo adesso voi non siete tenuti a saperlo fatto così la velocità nel tempo andrà come la velocità iniziale perché se non c'è la velocità iniziale non succede niente per e alla meno t su questo tau che sarebbe m per r fratto b quadro l quadro dal punto di vista grafico è molto semplice perché questo andamento della velocità in funzione del tempo nel tempo è fatto così partiamo da una velocità iniziale e poi andiamo giù a scendere ok quindi cosa significa che all'inizio il corpo ha una velocità iniziale diversa da zero ma per t che tende ad infinito quindi entrano anche i limiti la velocità per t che tende ad infinito la velocità tenderà a zero e quindi il corpicino tenderà a fermarsi quindi ecco noi abbiamo l'andamento nel tempo allora di tutte queste quantità perché adesso se al posto di v di t io vado a sostituire v zero per e alla meno t su tau io ho l'andamento nel tempo della forza elettromotrice che quindi diminuirà pian piano nel tempo della corrente che nel tempo diminuirà esponenzialmente con una legge esponenziale nel tempo della forza che diminuirà esponenzialmente nel tempo e dell'accelerazione che diminuirà esponenzialmente nel tempo perché tutto è direttamente proporzionale alla velocità quindi tutti questi profili tutti questi profili hanno tutti un andamento va bene per le quantità positive fatto così mentre per le quantità negative ovviamente fatto così però tutto nel tempo morirà dal punto di vista fisico ok quindi abbiamo visto che l'accelerazione essendo la derivata della velocità nel tempo è andata a creare un'equazione differenziale la variazione di velocità nel tempo provoca giustamente una variazione di velocità e quindi tutto ciò rientra e quindi vedete che questo circolo si ripete all'infinito che poi è il concetto di un'equazione differenziale qualcosa che dipende da se stesso ovviamente va a mangiarsi la coda ovviamente dal punto di vista della parola chiave visto che siamo in quinta mi collegherei al tema in filosofia magari dell'eterno ritorno al concetto comunque più generale dell'ingenesi ok cioè che tutto ciò nasce alla fine da se stesso finisce nasce quindi anche al termine di ciclo ok e di ciclo infinito quindi vedete che ci sono tanti tanti collegamenti utili che ci sono